Roberto Marini è uno di quelli che, comunque, grazie al calcio lo deve dire, perché nel calcio lo ricordo da una vita e adesso dal calcio ha avuto una buona gratificazione, no? Perché il salto di categoria c'è stato e forse esclusivamente per merito tuo. Sì, specialmente perché sono tornato ad allenare il mio paese, quindi, diciamo, sicuramente è una questione di orgoglio. Adesso deve entrare in gioco anche questo, l'orgoglio, perché per fare bene il proprio paese sicuramente è più difficile e ci si aspetta sempre qualcosa in più anche dagli altri. Il calcio mi ha dato tanto, continua a darmi tanto e spero di poter ripagare la fiducia che mi ha dato la società. Tu, peraltro, sei alla guida di una società storica. Nel panorama regionale è una società storica, non è una società e basta. No, no, questo è il ventesimo anno di eccellenza che fa il Montorio, quindi naturalmente bisogna continuare in questo panorama calcistico. È una squadra che va ancora completata, naturalmente. Ho visto delle buone cose oggi nella partita, eravamo al cospetto di una squadra sicuramente più forte di noi, anche come categoria, ma anche come ambizioni. Bisogna sicuramente tornare sul mercato per cercare di dare una rosa più ampia. Abbiamo visto il secondo tempo, eravamo 11-98, quindi in campo. Comunque si può ancora fare bene. Le prospettive di questo campionato, non solo per il Montorio, cioè tu come lo vedi, perché poi alla fine rimane un campionato difficilissimo. Sarà l'ennesimo campionato difficilissimo? Spero qualcosa di meglio dell'anno scorso. Sicuramente il Montorio in questi 20 anni solo due volte è arrivato a fare i play-out. Speriamo di non arrivare a fine campionato con quell'angoscia dell'anno scorso, anche se alla fine le cose sono andate benissimo dopo il Montorio. Però merita sicuramente qualcosa in più come posizione. L'anno scorso c'era talmente tante difficoltà e quando la squadra comincia a stare sotto può essere bravissima, rimarranno sempre le paure. Quindi non bisogna ripetere sicuramente gli errori dell'anno scorso. È una squadra che può fare bene. Io mi auguro come allenatore, come Montorriese soprattutto, che possa fare un campionato non di vertici ma sicuramente non sofferto. Ultima annotazione. Te la senti di dire chi è la grande del campionato, quella che partirà con i favori del pronostico per la D? Non lo so, abbiamo avuto il paterno che fa sempre secondo, quindi sarà sicuramente una squadra che punterà a ripetersi, ma dire che vincere il campionato ancora presto.